Dagli studi di Activision, ecco a voi CTR TV! Benvenuti amici sportivi, sono Cic Ventriglio e questo è il mio infervoratissimo collega Stu. Siamo qui per darvi le ultime notizie dal mondo dei motori. Proprio così Cic, il nostro primo Gran Premio sta per iniziare e io non vedo l'ora! Allacciate le cinture e unitevi ai piloti provenienti da tutto il mondo in questo Gran Premio di Proporzioni Internazionali. È con grande piacere che vi presentiamo i nuovi piloti che si metteranno al volante con noi in questa stagione! Non vedo l'ora che scatti il verde! Aspettavo questo momento! Stavolta non mi prende nessuno! Finirò sulle prime pagine dei giornali! Ah, sì, questo è il mio fido d'estriere! Wow, questi nuovi sfidanti valgono tanti vumpa quanto pesano e daranno filo da torcere ai veterani! Ho una notizia fresca fresca amici! Vi presentiamo in esclusiva le nuove meraviglie dell'ingegneria che correranno sui nostri tracciati! Uh, quanto mi piacerebbe fare un giro su uno di quei gioiellini, Cic! Ah, accumula abbastanza nitro e forse ci riuscirai, Stu! Temo che il tempo a nostra disposizione sia finito, amici pennuti e non! Date gas e... In bocca all'uovo! In bocca all'uovo! In bocca all'uovo!